Partito, ragazzi ci siamo, presento un grande personaggio davanti all'hard rock, un Veneto che ha delle massime, forte l'applauso, un fulminato! Fratello, peace and love, in caso di incertezza tenere il gas aperto, se sei incerto tieni aperto, Mr. Eblon number one is Charmaine Shake, Super patata bionda, io direi una patata fotonica, oltre ogni livello, questo costore Chino lei è già nel 2013, è proiettata avanti alle luce, scombo il quiz, nome? Davide, età? 37, chi ha scoperto la merita? Colombo, applauso, vincano, vincano, e chi non fa un problema perché sono sotto effetto di altri, 7 per 2 me lo dici, picchia un quizone questo, 7 per 2 me lo dici, chiama Jerry Scotti che mi trova la soluzione, 15 per 2, 15 per 2, 30? 15 per 3? Porca troia sei negativo, 13, 23! Chi ha dipinto la Mona Lisa? Chi ha dipinto la Mona Lisa? Leonardo! Chi? Cosa? Pieraccioni! Delice! Cargatore ex del Lidl! Dunque, forte l'applauso, solo Sean Besheek offro questi personaggi, applauso allo che! Eeeeeeeeeee! Ciao! E la super patata fotonica! Ciao! Ciao!